Eeeh what a tutti c'è ma benvenuti a giocare in questo nuovissimo episodio su Silence Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video E reccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa assieme a Rini e a Spot E ai fantastici sassi parlanti Abbiamo risolto il dilemma tra virgolette delle pietre e quelle magiche Fatto sta che la porta comunque non si è aperta Per cui l'unico ad essere riuscito a passare è stato Spot Per cui direi di non perdere più tempo e di andare a giocare Sono veramente curioso di vedere cosa succederà adesso e cosa ci troveremo di fronte adesso ragazzi Vabbè Ok Ecco qua il nostro piccolo Spot Che c'è? Oh mio Dio Noi siamo amici Ma sì che è un bruco È Spot Prego No Ma perché? Cioè Spot con quel faccino lo ritieni uno dei gattivi Ma che veramente Comunque abbiamo finalmente trovato Janus Ragazzi se non mi ricordo male il nome Direi scappa dalla sua morsa Proviamo No cosa? No Ma certo che posso Certo Boh Vorrei aiutarti in qualche modo Janus Ma grazie amico Però dove vai tu? Undo vai? Se n'è andato ragazzi Allora qua c'è Horus Eeeh Spot Ok dovremmo prendere quindi il frammento Oh mio Dio Questa bestia è pazzesca Quante narici ha ragazzi Ma perché ha così tante narici? Duh che schifo Allora dovremmo entrare là dentro No che schifo Spot Oh mio Dio Oh mio Dio Perché è diventato così adesso? Eeeh Tappo di roccia Ok Proviamo così Oh Ammazza che schifo Cioè vuol dire C'è del liquido Eeeh che probabilmente ci sbarrerà la strada Ok infatti non va più avanti di così Eeeh il frammento ce la facciamo a prenderlo? No Come non detto Fauci di drago Non so Oh Ah Ma che cavolo Oddio Tanti piccoli spot Ma perché? No a quanto pare comunque col frammento Non ci possiamo assolutamente niente Ma perché si è trasformato così ragazzi? Non lo so Narice Possiamo tapparli le narici? In qualche modo No Eeeh Sembrerebbe proprio di nuovo La pelle penzolante Op 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 Un due tre Un due tre No Eeeh Niente da fare Andiamo su Ce la famo almeno No Quindi Proviamo di nuovo nelle fauci ragazzi Non lo so Magari riprendiamo la forma che avevamo prima Che schifo comunque Eeeh Ecco qua Oh mio Dio Mi ha riempito No Sarebbe stato fantastico Vabbè Fatto sta che siamo tornati normali E qua Il suggerimento dice Perciò che tutte le parti di questo mostro sono resistenti al fuoco Per cui Il fuoco da dove mi zica Lo prendo Boh Dovremmo pure fare qualcosa con la narice Ok Abbiamo preso fuoco ragazzi Proviamo qua con la pelle Corri spot Prima che ti spegni Oh mio Dio Oh merda Ok Quindi Fin quando ci sono gli occhi Niente da fare Va bene Riprendere fuoco Anche se è una cosa abbastanza inquietante E proviamo con la pelle penzolante A sto punto Boh Tanto vale provarle tutte ragazzi Ok Ha preso fuoco Grande Comunque se dovessi cliccare su Oros Ragazzi Andremo verso Rini Se mi facessi mangiare Mentre Vado a fuoco Ah no Niente da fare Siamo di nuovo nella stessa situazione di prima Non ce la fate a passare Certo che ce la fate Ok no Comunque Non possiamo fare niente sulla narice destra Magari adesso che sono sotto forma di palline Possiamo Dare addosso agli occhi Grande Ok Abbiamo trovato questa soluzione E sono felicissima Perché almeno non andiamo in giro per troppo tempo Adesso direi di riassumere La nostra forma originale Sono rimasta stupita anche dal fatto che spot ragazzi Si possa trasformare in tante piccole pallette di mocio verdi Adesso che abbiamo fatto questo Direi che è il caso di prendere fuoco E di provare a dare fuoco a questo lembo di pelle ragazzi Proviamo Sulla pelle penzolante Ok Perfetto Per cui adesso possiamo entrare nella narice superiore Che meraviglia Vivaccare nel mocio del drago Adesso posso arrivare al frammento Non ci arrivo al frammento Davvero Forse adesso devo riempirmi di mocio Avevamo visto ragazzi che quando è pieno di mocio È capace tipo di sparare una lingua appiccicosa Per cui proviamo ad uscire sotto questa forma dall'altra parte Spero che non si sgonfi passando di qua Ecco fatto Proviamo adesso Adesso forse dovremmo esserci ragazzi Ok adesso si Missione compiuta Avrei potuto andare da Rini Perché non ci sono andata Non lo so Fatto sta che ce l'abbiamo fatta ragazzi È stato meraviglioso Una bella esperienza proprio Farsi le passeggiate nel mocio Questo era il frammento che cercava Il cercatore ragazzi Ciao ragazzi È stato un piacere Adesso torneremo Al campo Dopo che siamo stati via Tipo Due giorni e mezzo Ok Era ora Grazie a spot Chiedi dalla falsa regina Direi perché sono curiosa Ma che è veramente Stati Direi di no Ok ma spaccalo Ruba il frammento Proviamo a usarlo noi A questo punto Ok Ok Perché siamo qui Si questo è vero E questa è la scuola La scuola Perché non posso vedere La mia riflessione Perché Perché Solo la rightful ruler Può vedere La sua riflessione Case closed Non è tu Ma Questo può essere La scuola Deve essere la scuola La scuola Questo blacca La mia Sui Non Tu Può vedere La scuola La scuola Ha Ha You gotta admit You believed it For a second If I was The rightful ruler My first decree Would be Abolish Monarchi Hey Why didn't anyone Tell me I got something On my face Right on my nose Really nice Of you To let me Walk around Like a clown Come hai detto Scusa What did you Just say Rini She can see A reflection She's our Rightful queen Impossible She's just A child That's insane Hey Great I've always Wanted to be A queen Can I have Rubies on my crown This is not A game Rini You know What it means To be the ruler Of silence Oh Then I'd rather Be me again Huh What are you Talking about If you are The queen What does that Make me Her jester What else My brother Of course Rini If you're the queen Of silence That means That all this Is just Your imagination I'm just A character Within your dream Like everyone else You know Who I'm talking About Starwick Yay Yippee You're my Starwick Ah ok Posso prenderla Quindi siamo Nell'immaginazione Di Rini Non di Noah E quindi siamo Cioè Soltanto Frutto Della sua Immaginazione Oh Gesù Dai Told you I told you We should ask Shauna She'll foretell That we cast down The false queen And help Rini Reclaim the throne If that is Our destiny What No 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 Let's not get Hastie We'll find Shauna When the sun Rises Then we get Our prophecy But until then No more Speculation Get some rest All of you I'll keep watch Vabbè Direi che sono Abbastanza sorpresa Perché ci hanno fatto Credere fino all'ultimo Che comunque Possimo di Noona L'immaginazione Di Noah E invece No Quindi la sala Del trono È segreta Soltanto Lo specchio Può condurci Fino a lì Il frammento Dello specchio Ok Ok Eccoci qua E adesso Stiamo andando Da questa Shana Ok andiamo Sono curiosa Di vedere Cosa ci aspetta Adesso È pieno di ricercatori Ragazzi As long as I breathe The city is not lost Uno Ok E adesso Ma cioè Pure Pure lei Che balli Punta il dito E quelli giustamente Si arrabbiano Cioè Stiamo facendo Il loro lavoro Oh merda Oh merda Ancora Stinsetto Si vede sempre Da per tutto Per tutto Pesso di merda Oh C'è Chi? Eh Carbo no Ma, 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 ok Ci penseremo noi Allora Proviamo ad interagire con la prima cosa che parliamo Cioè sarebbe a dire fune Vediamo un po' come succede Oh merda Grandora, aspetta, aspetta Sì, ma non è quello che dobbiamo usare Dovremmo usare questo affare, ragazzi Per colpirlo direttamente in testa È solo bisogno di una fune abbastanza lunga Oh merda Ok, eccola qua La nostra fune, quella che ci serve Perfetto È stato lo stesso A farlo cadere, è stato un meraviglioso Legalo un po' Ok Un bel nodo Proprio meraviglioso Ok Leghiamolo alla barca E poi lasciamo andare via la barca Perché la corrente è così forte, ragazzi Da poterlo portare via, evidentemente Ok, ok Basta fare un pochettino di attenzione Ecco fatto Adesso garo il mio cercatore Direi che puoi andare anche a quel paese Ciao Ciao Molla Molla Cattivo Cattivo cercatore Molla, tiragli le dita Mi fa abbastanza ridere Ciao C'erano tipo 20 cercatori Era pieno di cercatori Vabbè Ok Diciamo di sì Perché adesso lo chiama così Non lo so Cioè Perché adesso lei forse se lo sta immaginando Come, come, come Southwick Perfetto Eccoci qua Adesso Eh sì Libera un cavolo Era invasa Sì Cattivo c'è sempre un piano Ok Adesso l'ha chiamato Ah vieni Ok infatti L'ha chiamato Noah E Lui le ha ricordato che È Sedwick Perfetto Buttala lì Arriva Oh cavolo Adesso mi esplode in faccia Ehi Ottimo lavoro Fira Il ponte distrutto Stai zitto Magari Bene E adesso Fantastico Adesso Immagino che dovremmo riutilizzare questa parte di asso in qualche modo Ottimo piano Ottimo piano Rini E Ok Quindi In qualche modo Ok Adesso sì Dovremmo utilizzare spot Ovviamente Che Si metterà qui Credo Almeno spero Proviamo così No Come caspita Dovrei fare Do you really think I could toss you over there like that That's so Ok Perfetto E Adesso Cosa dovrebbe cambiare Effettivamente Ah no aspetta Cioè Probabilmente adesso Dovremmo usarlo Per spostare Quest'asse qua Ah ok 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 E Probabilmente potremmo Perché Ma perché Che c'entrava Che c'entrava a bere l'acqua Scusa Aspetta No 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 Adesso spot Deve bere acqua Per mettersi qui E fare da contrappeso Almeno credo Boh Ok Perfetto Dovremmo esserci Per qualche recondito motivo Oh merda Cosa Cos'è Ma 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 scusa Ma No Cioè Veramente Quindi Prima lui E dopo lui Ok È una specie di enigma Probabilmente Non dobbiamo far passare Tutti così rapidamente Nel senso che Dobbiamo tenere conto Anche dei pesi Direi Ok Forse a lui Devo farlo passare Per primo Mi so ragazzi Proviamo adesso Ok Perfetto Dopodiché Lei Lui No Ok Ci rimane sempre qualcuno Ok Ok Perfetto Ok Non ho capito Questa cosa Tipo Disegno Oh merda Spocchio E adesso Dove vai Oh Si Povero piccolo Sempre con sorriso Amore Spoddy Oh no E state zitto E state zitto E state zitto La mia mia L'abbè lasciata così Perchè si Perchè si sono separati Stivali Oh cavolo Ok Si Quindi Spot E' andato Praticamente Semplicissimo Che ce ne importa No Tanto è caduto in acqua Che c'è Che c'è Sono Rini e Kira, però sono due statue, va a capire il perché. Vabbè ragazzi, allora, anche oggi è stato abbastanza avventuroso, oserei dire. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un buddash a tutti ragazzi. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete questi anti-aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!